Salve ragazzi, bentornati sul canale. Quindi, siccome so che i follower in Italia stanno cercando anche loro una crescita personale e una crescita di salario. Qua stiamo parlando di un sito che le persone che entrano hanno una crescita di salario, come dice la legge di attrazione. Praticamente è un'università online che è completamente gratuita e avete addirittura il piano di affiliazione. Si chiama Allison University ed è una delle più riconosciute e accreditate università di questo periodo storico perché ha vinto dei premi in quanto ha fatto uno studio sul coronavirus che ha avuto tutti i premi internazionali nel mondo di tutte le università. Quindi è una delle più accreditate università del periodo e quindi come voi entrate subito la legge di attrazione si attiva e c'è una crescita subito. Io ho avuto subito delle offerte che mi hanno fatto crescere il salario. Subito come sono entrato ho fatto il primo corso perché comunque stiamo parlando di un'università accreditata irlandese che ha riconosciuto adesso in questo momento storico e potete avere anche diplomi certificati e accreditati in tutti i paesi e tutti i tipi di carriera che state cercando. Praticamente potete costruire un curriculum professionale e anche la vostra posizione lavorativa tutta tramite il sito e addirittura fare un check up della vostra salute mentale cioè addirittura questo in questo sito che io questa la farò per capire se i miei livelli di stress che io lavoro un sacco ma penso che i miei livelli di stress siano ottimali in questo periodo mi sento abbastanza bene e sento che il mio potenziale sta emergendo molto in questo periodo quindi la mia legge dell'attrazione sta attivandosi proprio bene. Quindi in questo sito potete avere vedete il dollaro qua questo qui sarebbe l'affiliazione cioè se voi condividete il corso a cui siete iscritti e qualcuno entra voi guadagnate praticamente è l'unica università accreditata che fa una roba del genere cioè voi linkate tramite il dollaro lo mandate ai vostri amici se i vostri amici entrano e fanno il corso che c'è nell'università che ripeto sono completamente gratuiti decidete alla fine dopo fatto l'esame perché ogni corso ha un esame se pagare per ottenere il diploma o il certificato però il certificato costa 36 euro, 36 dollari il diploma 100 dollari quindi ha un costo anche relativamente basso perché se voi andate in università quanti migliaia di euro dovete pagare per avere anche la laurea invece in questa c'è anche la laurea ed è a basso costo perché è anche per questo che avete usato i premi perché è una delle più meno costose università però accreditata quindi io per esempio consiglio di fare che ne so il corso della legge di attrazione comunque vabbè dobbiamo capire che questa università è tutta in lingua inglese quindi dovreste fare almeno il primo corso che consiglio vedete qua sono tutti accreditati legge di attrazione vedete master NLP e legge di attrazione questi io li consiglio comunque per avere una maggiore consapevolezza di quello che vogliamo però io siccome qua in Italia so che ci sono problemi in inglese io andrei a fare un corso di inglese inglese livello principiante che ne so elementare ecco qua corso di inglese elementare quindi aprite la pagina fate start course ed è elementare quindi io questo ve lo metto se volete iscrivervi al corso di inglese ve lo metto sotto il link e vi metto sotto anche il link della scuola perché comunque ragazzi come entrate in questa scuola avete subito una crescita del salario subito io ho avuto una crescita del salario subito appena ho fatto il primo corso quindi è una delle più riconosciute e accreditate università del momento e anche se dovete fare il curriculum vita e mettete che avete fatto il corso sulla allison vi riconoscono di più nel lavoro quindi ci vediamo al prossimo video ciao ciao